Allora, buonasera a tutti! Oddio, allora... Oggi, con il nuovo arrivo... Aspetta, ti faccio il gioco? Guarda! Ma che c'è? La Laura, aspetti, la faccio giugno a te! No, aspetta! Ah, 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 ah... E questa ragazza... questa ragazza qua è tutta scema! Cioè... Nando, hai notato? Cioè, l'hai notato? Un comment, eh! Sario, tu, tu, tu... tu, tu, tu... Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Marie? Marie? come va la serata? un commento su questa serata? guarda che domanda? no come? wow come? wow wow un commento su questa serata? commento skywalk ma chi si? massimo tecca? proprio carezza alle ore 22.55 siamo per cominciare a lavorare a Mara Luna la serata è ancora tranquilla però sta per venire gente e speriamo che stasera a questo giorno faremo un bel tubo anche perchè stasera non ho voglia di lavorare come anche la mia collega a caso bianco collega? che dici a lei? spero che stasera lavorerà in pizzeria una compagnia che è una mia gara amica sta un po' male però c'è il suo toto bastardo c'è il suo toto Dario che credo che lavorerà stasera il suo commento? se me l'ha fatto prima l'ho fatto prima saluto a tutti i miei colleghi del Mara Luna ho fatto la linea ora a pizzeria e fai col testo vado? vai lo va? c'è un commento sulla serata? come va? il pizzaione che sta facendo un po' c'è un po' c'è un po' che cosa? che cosa? pizzeria? che cosa? pizzeria? aa aa non si dice sei la signora e dai dove